Cerca Hellsworld su Google, clicca su vai al sommario gameforge.com, clicca su dimostra la tua stoffa, effettua il login, clicca su vota, trova il nostro video tra quelli selezionabili, una volta trovato clicca su vota e vota il nostro video, in questo modo ci permetterà di vincere questi fantastici premi, fallo anche con più account se ce li hai. Ciao a tutti, ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Io non lo posso prendere, non c'ho piccone, qui? Vabbè ha preso genius. C'ho due diamanti, ma mi chia son messo malissimo di armatura su full pelle, c'ho un diamante pure qua sotto. E mi puoi fare una spada anche a me? E non ho un diamante, c'è me, c'è tre. Aiuto! Non andare a combattere! Ok, l'ho ucciso. Ok, che culo. Si pronuncia, non ci deve andare a combattere. È venuto lui. Ci frecciano. Che palle! Alla grande ci frecciano. Oh, alla grande cosa, l'Akbar. Berda! Dove stanno gli estetti frecciano? Stai morendo, ti faccio da scudo umano. Mi sono la di destra. Di là, ma sono tutti quanti al centro, già tutti full, belli, belli. Guarda, guarda se lo becco con la pozione, non la beccherò mai. Mi leva mezza vita questo con un colpo, fai te. Non crepare, vieni giù, vieni giù se stai morendo. Non andare all'attacco. Sto cercando altri tipi. Magari non giù così che sei quasi morto. Posso fare un cappellino. Diamanti no, ne manca uno per farmi fare una spada. Tieni, ce l'ho io un diamante. Eh no, oltre al tuo. Che cazzo? Questo qua l'hanno avvelenato, vabbè. Ho una rod. L'ha usata la rod? Si. Tieni, usala. Usala per buttarmi su. Se non mi scavate sotto i piedi. Ma non siamo noi, è questo. Aspè, l'ammazzo io, va. Siamo già... Attenzione sopra. Sì, vabbè. Mi sta stronzo. Non c'è il blocco. Siamo ancora tutti e cinque, siamo rimasti in pochissimi. In pochissimi? C'è ancora tipo una trentina di persone, eh. Per te sono poche. Oh, c'è gente. Oh, c'è uno da dietro qua. Ma... Chi avete ammazzato? Ok. Ok, buttato di sotto. Buono, buono. Io non sto facendo una merda. Io però sono quasi morto. Ho tre cuori. Ce l'avete qualcosa per me che io sono poveretto proprio così, senza niente? Grazie. C'è uno qua sotto. Vai, l'ha ammazzato. Ma perché vi fottete sempre tutti i drop? Levate di culo, tu. G ce l'hai un lingotto? Stai fermo, fermo. Ti l'hai preso quasi un corpetto. Giussi, ma questi qui hanno lasciato il diamante. Lo devo ammazzare. Ci hai fatto tutta la mia roba. Ragazzi, ma questi qui non hanno raccolto nulla. C'è ancora tutti i diamanti. Ma perché in questi posti sono quelli che rushano e vanno subito ad ammazzare perché sono sculati e trovano il mondo. Qua c'è un diamante. E anche lì ce n'è uno, eh. Per dire. Perché io mi ricordo i posti dove sono. Senti, ti fa un paio di gambalette G, va bene? Non ce li hai? No, non ce li hai. Li ho. Butta. Che è morbido. Che sono al centro. Perché vai al centro senza dire niente, che poi muori? Qui però in teoria ci sono altri diamanti, eh. Questo con corpo è ingerato, ciao. Sono ritornato. Uh, c'è strefilata. C'è strefilata. C'è strefilata. Diamante affilatezza. Spada in piedra affilatezza. Corruto di metallo. Piccone diamante. Oh, piccone diamante. Piccone diamante. Piccone diamante. Risaliamo, risaliamo. Oh, gambalini diamante. Risaliamo, risaliamo. Sì, vabbè, i clacson. Ma che è i clacson? Ma chi è? Dammi. Sono full ferro a parte i piedini che sono in diamante. Oh, boccette, boccette. Si sboccia stasera. Eh, me ne... Vieni giù. Aspetta, aspetta, aspetta. Non andiamo. No, butta, 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 butta. Ok, ok, due livelli, tre livelli, tre livelli, basso. C'è una scenda, andiamo tre con due. Aspetta, aspetta, vieni giù. Stiamo inchantando. Da uno. Dove? Da noi. No, no, lì, però. Ecco. Se sono quattro. Freccia. Merda, io non ce l'ho. Poi mi ha levato mezza vita. Ma perché io non ho l'armatura? Perché la stavo inchantando. Vai, intrattenilo con le frecce e poi andiamo. Vai, 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 vai. Intanto questo qua c'è l'arco, ci vuole buttare di sotto. Perché? È morto, è morto. Vai, GG, c'è va l'henderpearl pure. Se vuoi rimasti in gingue. Nei tre altri due. Defile. Altre enderpearl. Ok. Corpetto protezione 4, 6 enderpearl. Sì, vabbè. È il mito protezione 4. Corpetto protezione 4, 6 enderpearl. Sono l'unico che non ha preso niente di tutta questa roba qui. Fatemi capire. A parte il piccone che scava 300 blocchi. E il nostro teammate è morto. Ok, ne vedo uno. Dov'è? Dov'è? Dove lo vedi? Lì. Lì, ok, faccio il giro io. Qui c'è altri diamanti però la gente non li prende. Ma che te ne frega? Siamo messi benissimo. Ok. Devo farmi il corpetto se no mi vago a fare blocchi. Faccio curire il giro, se no finisce male. Ok, qua c'è uno. Dove sta? L'ho visto qua sotto questo. Eccolo qua. Se ne sta scappando. Dove? È là, nell'isola di fronte. È full diamante. Se lo riuscisse a beccare con le fottutissime frecce. Che merda è? Oh, uno mi ha beccato da dietro. Ce ne stanno altri là sopra pure. Guarda lì. In realtà sono due, quindi uno è lì e uno è là. Arrivano i draghi. Dove siete di preciso? Siamo sui... No, ho tirato l'ender per... No, 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 no. È morto. Perché devo morire sempre con l'ender per... Perché merda mi ha lanciato l'ender per invece di prendere l'arco? L'ha affogato il momento. Oddio. Dov'è però? Dov'è? Guidami da lui. Aspetta, vengo da te. Ce l'hai di fronte nell'altra isola? Boh. Ok, quello che ha ammazzato Checco. E Stone si ferma a prendere gli diamanti. Ce l'hai di fronte comunque Stone, eh? È lì. Stone ti è venuto addosso. Sta laggando, sta laggando, vai. Vai Stone che stava laggando a merda questo. Vai, vai, dietro, dietro. Che volo! Stone va via. Il drago l'ha beccato. È volato di sotto? Ho visto bene o è volato? È ancora vivo? A me continua a tipparmi da te. Dove è andato? Ok, lo vedo, lo vedo. È qua davanti a te. Vai, 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 cazzo. Oh, se cadete per l'acqua, guarda. No, 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 no. Risali, risali. Checco risali. Vai Stone, vai Stone, vai Stone. Ancora 14 di vita c'ha quello. Riesci a farlo volare di sotto c'ha l'antic knockback. Che è? Guarda come sta laggando. A 10, a 8. Il drago. Dai, 4. Non è morto. È morto. Sì. 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 Wow, abbiamo vinto. Minchia. Ho fatto uno. Ho fatto uno, mi pare. Minchia ho uno. Ok, ragazzi. Comunque per questo ve è tutto. Se il video mi piace, mi piace, commentate, iscrivetevi ai canzionatori, iscritti. Ragazzi, per la top fan non la faremo più vedere perché ormai è buggata. È la stessa da quanto? Due mesi, più o meno. Sì, più o meno. Quindi sembra abbastanza inutile far vincere sempre la stessa gente. Quindi, nei prossimi video con l'inscritto saranno decisi con un altro metodo che vedremo nel Cuff Time di dicembre. Comunque, mettete il piacere alla pagina Facebook. Passate in descrizione. Notate il video di Hellsward. Del contesto. Ovviamente noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.